Buongiorno ragazzi, ecco a chi doveva far male le sanzioni all'Europa, non alla Russia. In Italia la benzina costa 2 euro, lì costa 51 centesimi perché più o meno 100 rubli sono 1 euro o 69 centesimi, 63 il diesel, ok? Cioè rendetevi conto, rendetevi conto, poi arriverà il sapientone a dirmi che loro la producono. Appunto, loro la producono e le sanzioni ce le prendiamo noi.